Donna non vidi mai dalla mano di Puccini assomiglia molto a una dichiarazione d'amore. Una dichiarazione d'amore che nella fattispecie all'interno dell'opera non avviene direttamente al destinatario di questa dichiarazione che sarebbe stata Manon, ma avviene come una confessione fatta a se stesso da parte del cavaliere de Grieux che dopo aver visto e parlato con Manon rimane completamente stregato e dice donna non vidi mai simile a questa, a dirle io ti amo, a nuova vita l'alma mia si destra. E' come un risveglio dalle nebbie di una vita senza sentimenti, no? Improvvisamente arriva Manon, arriva la luce, arriva il sole e de Grieux è innamorato. e prima ancora di dichiararsi a lei canta questa confessione che fa a se stesso, questa dichiarazione d'amore meravigliosa. e prima ancora di dichiararsi a lei canta questa, a dirle io ti amo, 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 a dirle io ti amo. e prima ancora di dichiararsi a lei canta questa nazione, che fa a se stesso da parte del cavaliere di Grieche,